Siamo per tornare, il campeggio inizierà domani e andrà avanti fino a domenica, quindi fino al 25 agosto. Campo di Giove, campeggio Orsa Minore e torneremo a ribadire il nostro no all'utilizzo anacronistico delle fonti fossili con focus specifico sullo stoccaggio di gas metano. Sarà un campeggio pieno di presentazioni di libri, conferenze, tavoli tematici, approfondimenti, trekking, convivialità, insomma un sacco di iniziative per informare, per informarci e sensibilizzarci. Fondamentalmente il clima ci sta dicendo che non è quella la direzione da perseguire, le fonti fossili vanno necessariamente abbandonate e anche il piano energetico nazionale ce lo dice chiaramente e dobbiamo puntare sulle fonti rinnovabili. Noi ci rivolgiamo sicuramente ai cittadini, alle istituzioni e a tutti quelli che hanno a cuore il futuro di questo nostro pianeta. È in campo un'iniziativa di invio di una cartolina al ministro dell'ambiente e su questa cartolina è possibile vedere com'è la zona di Casepente dove è stata pensata la realizzazione della centrale con annesso metanodotto. Noi inviando questa cartolina, sottoscritta singolarmente, vogliamo invitare il ministro a rivedere le sue posizioni.